Questo pallone in direzione di Iacuinta, attacchettando Chiellini, il sinistro in corsa! Che gol! Che gol da parte di Giorgio Chiellini, la sua prima rete in maglia azzurra, ha preso palla, l'ha messa sul sinistro, se l'è incollata, è in corsa, ha fatto partire questo tiro che Mikkelsen ha visto e basta, pallone che gli è passato sulla sinistra, 3-0. Beh, un gran tiro, poi in corsa non ha fatto capire chi calciava, questo ha soppeso il portiere, il portiere è stato anche lui, guardate, tiro molto forte, 7, quindi palo, e sono contento per Chiellini perché è un ragazzo che merita, la palla ha calciata molto molto bene, rimane ferma, guardate come spiazza il portiere.